Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video E oggi giochiamo a Brawl Stars Facciamo qualche partita così A cavolo E' una buona I' di nuovo Allora Znovu sei nabile Bo Se molto mi posso mettere questa cassa di forza subito 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 sub Perfetto 1140 1200 Ok ok ok, andiamo da questa parte, uccidiamo questo bombardino, uccidiamo questo stack, uccidiamo No, anzi dovremmo uccidere Ok, no 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 Ok, no 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 Oh, mother! Blame in the neck! è bello stesso posto, è buono ovviamente niente facciamo sedio sto diventando pazzo sono io, non dir mai, io scarso devo fare quello che adesso muoio è bello 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 è bello